Ciao a tutti, credo sia arrivato il momento di parlare direttamente con voi che mi seguite con tanta passione da tanti anni giorno dopo giorno. Da tempo leggo accanto al mio nome riferimenti a situazioni e comportamenti che non mi appartengono e questo mi amareggia. Il motore della mia carriera è stato l'amore profondo per il calcio, per la maglia delle Juventus e per i suoi tifosi, non per i soldi. Avrei potuto guadagnare molto di più altrove, accettando anche in quest'ultimo periodo le offerte che mi sono state fatte. Ho parlato al Presidente, non di aspetti economici, ma della mia volontà di mettere a disposizione anche per il prossimo anno la mia determinazione, la mia professionalità e la mia passione, la mia voglia di vincere ancora, la voglia che mi ha accompagnato dal tonal di Via Leggio al Mondiale per non parlare della Serie B. Ci tengo a sottolineare che il legame per la maglia e per i tifosi per me non è quantificabile. Ho filmato il mio primo contratto con la Juventus in bianco. Filmerò quello che sarà l'ultimo della mia carriera con questa maglia in bianco. È tutto, un abbraccio, ciao!